Salve a tutti ragazzi per i ritrovati sul canale, proseguiamo a dove ci siamo lasciati l'ultima volta, cioè con il voler parlare con Cloan. Gli oggetti in vendita sono sempre i soliti. Gli oggetti possono sembrare tutto il stesso, ma con l'occhio attrazione, ogni è unico. Alcune di queste sono usate per smitharmi e armare, e alcune delle stoni uniche ci sono usate speciali. Alcune di queste sono estremamente rari, e devono essere usate con un grande thrift. Nulla delle differenze sono semplicemente spostate, ma ho apprezzato molto molto. ... 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 Ok, abbiamo finito le linee di dialogo, a questo oggetto, tanto poi lo becchiamo anche dopo, quindi non è un problema, agli artigli dei manichini, un'arma che si attacca le maniche ed è un pugno può attaccare graffiando l'avversario con tre lunghi artigli, gli artigli infingono ferite profonde e causano sanguinamento, una frusta che già avevamo, un randello rinforzato, uno scuro, ha un'armatura da ladro diciamo, armatura di cuoio nero, permette di confondersi con le ombre, spesso usata con propositi gloschi, creata con perizia e fornisce una buona differenza. Infine a questi oggetti, questo è l'unico veramente che mi interessa, ma lo recupereremo più avanti. Andiamo giù, e poi finiamo, anzi no, vi faccio vedere un'altra zona e poi finiamo il video. Recuperiamo questi due oggetti, pietra di faro, stra l'altro, beh una ci serve subito, quindi ve la faccio vedere subito. Ok non ci dice nulla di nuovo, perfetto. Allora torniamo indietro, da qui, anzi prima facciamo che andare, no merda, bagliato zona. Facciamo che andare un attimo a recuperare quell'oggetto lì, poi usiamo l'osso del ritorno per tornare a faro, per evitare di schiantarci al suolo. Allora, yes, perfect, ok, andiamo ad affrontare questo rincobombo, che si è anche pure avvelenato, attenzione, voleva fare il figo e si è avvelenato, abbiamo una vitale radiosa, posto qua io però, non ti cazzare col muro. Ok. E recuperiamo questi due oggetti. Torniamo al faro così perché il salto non è dei più semplici all'indietro, vado a evitare di lasciare le anime qua, quelle poche che abbiamo ancora. Ok. Dunque ragazzi, ce la facciamo, non lo so, non so se riesco a farvelo vedere, proviamo. Direi di non farlo al contrario, di farlo da qua. Dunque, tornando un pelo indietro, ma di qui però, è possibile andare a recuperare alcuni oggetti interessanti, e soprattutto rincontrare un NPC molto, 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 molto interessante. Allora, di solito dobbiamo uccidere lei, per forza di cose, per me tutti. Poi dobbiamo andare, dobbiamo saltare così. Fortuna c'è lui che ci blocca. No, merda. Ok. Diciamolo che si... Fanciullo, venga qua. Così. Ho troppato. Aspetta. Merda. Merdaccia. La puttana di Eva. Merdaccia, merdaccia, merdaccia. Prego la stamina. Tacca. Bravissimo. Eh, ma così non ho... Ok. Ok, via via. Perfetto. Eh, sono un coglione perché volevo usare la trappola contro questo, ma mi si è rivoltata contro. Vaffanze. C***o c***o, muori o no? Allora. Usare la trappola contro lui, ma mi si è rivoltata contro. Allora. Di bene sempre dove andate qua. Recuperiamo questi e soprattutto qua dentro troviamo una balestra più giante più 3. Quindi sicuramente un'arma importante, tra l'altro già portata più 3. Ecco, sarà piuttosto frequente, soprattutto nei DLC, ritrovare delle armi già in fase, diciamo, già modificate, abbiamo delle armi già più potenti, ecco. Una grossa balestra che infilge ingenti danni, equipaggia dei dardi per utilizzare, contrariamente agli archi, per utilizzare la balestra con una sola mano. Equipaggia finito di tipi di dardi per avere diverse possibilità in battaglia. Il gatto mi è venuto a trovare, è fantastico. Allora, adesso saltiamo qui e al di là di questo stronzo che uccidiamo con cattivere. Insomma, cattivere e recuperiamo la polvere riparante e andiamo qui a parlare con Lucatheer. Allora, questa zona qui, prima di dare fuoco alle palle del mulino, era completamente invasa dal veleno. Si poteva camminare, però ci si avvelenava. Dando fuoco alle palle del mulino, si toglie il veleno. E finalmente si può andare a parlare con Lucatheer. Sì, è vero di aver sbagliato a te, questo è per te, per la forma di un approccio. Ho trovato i miei pensieri stanno diventando i miei ricordi sono diventati prima di più. La cursa ha fatto il suo lavoro per me. Sono affrontata, terribile così. Se tutto dovrebbe diventare, ciò che resta di me? Lo incontreremo nel nostro viaggio sul fratello. Non è proprio nostro amico. Io non l'ai mai comparato con lui. In realtà non l'ai mai battuto. Non l'avamo. Ma poi, un giorno, l'arrivo. L'arrivo senza un traccio. Ora sono sicura che l'arrivo fuori dalla cursa. Se solo qualcuno potrebbe sentire la mia figlia. Mi ha dovuto venire anche qui. Poi, non mi ricordo anche di lui. Allora, eccomi qua. Mi sono dovuto azzor un attimo. Ok. Ripete le cose. Allora, abbiamo una pietra di faros che utilizziamo. E che, come vedete, ci illumina questa. Noi apriamo e usiamo, e apriamo lo scrigno. Lo scrigno ci dà l'anello del veleno. Andiamo a leggere la descrizione. Sempre a leggere la descrizione. Nei source, ricordatevi. Uno degli anelli di resistenza, famosi per il loro aspetto singolare. Ecco, ce ne saranno altri con diversi colori al centro. Aumenta la resistenza al veleno. L'aspetto stranamente simile di questi anelli suggerisce una fonte comune. Chiunque fosse maestro degli atticati sapeva sicuramente il fatto suo. E poi ci è stato dato l'anello di protezione d'acciaio che è lo stesso che c'è in Dark Souls 1. Però stavolta più uno. Questa è una novità introdotta da Dark Souls 2. E cioè la possibilità di trovare anelli più forti. Lo stesso anello più forte. Più uno, più due. Lo vedremo. Conferisce la protezione dell'acciaio. Aumenta la difesa fisica. Si dice che questo anello appartenesse al leggendario re cavaliere. Sebbene la sua storia sia ormai dimenticata. E nemmeno i vecchi saggi la ricordino. Ragazzi, io torno adesso al falò. Vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!